Il fiato è retto, un ottimo Sant'Antonio Abate. Diciamo che abbiamo fatto un'ottima gara per 60 minuti, poi è normale che i valori vengono fuori. Quindi, come ho detto prima al tuo collega, se la classifica dice che ci sono 40 punti di stacco, vuol dire che comunque ci sono dei pregi e dei difetti. Quindi, noi continuiamo per la nostra strada, dobbiamo fare quelle ultime sei partite e cercare di andare in campo con la mentalità di oggi, perché questa qua è la mentalità probabilmente di una squadra che si salva direttamente. Eppure nel primo tempo, grandissima occasione per portarsi sull'1-0. Diciamo che noi abbiamo avuto sull'0-0 un paio di palle e gol, e poi abbiamo subito il gol su palle inattiva. Però, ripeto, non era questa la partita che potevamo fare punti. Giocando contro la Nocerina è una corazzata, quindi abbiamo dato il massimo per portare a casa qualche punto. Non ci siamo riusciti, ma va bene così. Un merito ai ragazzi e soprattutto alla Nocerina, che dimostra sempre di essere una squadra forte. Bisogna ripartire da qui, dalla grinta vista in campo soprattutto nel primo tempo, un po' anche perché nelle prossime sei partite affronterai sei squadre alla portata del Sant'Antonio. Insomma, salvezza che è ancora possibile. Sì, tu lo sai, mi conosci bene, quindi la salvezza per me è sempre possibile, anche una salvezza diretta. Però noi abbiamo dei limiti che dobbiamo lavorare tantissimo su questi limiti che abbiamo. A volte ci riusciamo, a volte no, e quindi speriamo bene che le ultime sei gare riusciamo a fare bene, bene, bene per la salvezza diretta. Che effetto ha fatto trovarsi dall'altra parte? Vabbè, diciamo che non è passato nemmeno un anno, si può dire che sei a Nocerina, poi ti trovi contro dove comunque abbiamo lavorato in condizioni dove tutti conoscete bene, però un effetto diciamo normale. Fa piacere se la Nocerina va via da questa categoria, perché comunque di categoria superiore. Ma non lo dico io, comunque sono i numeri che parlano. Comunque va bene così. Comunque va bene così.